E dove l'hai presa? Me l'ha portata mio figlio da Istanbul. Roba russa. Indistruttibile. Che ci fai? Ascolti ancora le canzoni alla radio? Soprattutto le notizie. Se c'è qualche novità, se succede qualcosa. Che razza di imbecille che sei. Ma che cosa stai aspettando ancora? Sono passati 18 anni, che notizie ti vuoi aspettare? Aspetto che qualcuno mi dica che è vivo. O che almeno mi restituiscano il suo cadavere. Se mi dicono, mi dicono, è morto. Se mi dicono, ecco, è lui. Allora vado a ricoprirlo con la terra. E recito una fatia. Se ci cresce l'erba, la vado a togliere. Insomma, aspetto che qualcuno mi dica è morto. Ma nessuno dice morto o vivo. Se non ci saranno notizie, che fai? Lo hai detto tu stesso. Per 18 anni non ci sono state. Aspetto. Idiota. Idiota.